Questo vivacissimo cucciolone giocherellone al massimo si chiama Marshmello ed è ospite del canile di La Terza, canile comunale. Lui sprizza energia da tutti i pori, è sempre stato così, da quando è arrivato all'età di sei mesi. È stato subito proposto in adozione ma a parte un interessamento iniziale delle persone tutto poi si è fermato e lui è rimasto qui in canile e vive in uno di questi box piccolissimi e tristissimi. Adesso ha l'opportunità di giocare, di sgambare, di fare la pipì perché ci siamo noi oggi pomeriggio eccezionalmente per fare le fotografie altrimenti lui vive sempre dalla mattina alla sera in questi box del sanitario tristissimi. Oggi stiamo cercando di riproporlo un'altra volta in adozione perché un cane così bello, giovane, affettuoso non può rimanere in canile. È vero Marshmello, è vero? Il problema è che sei Monello, sei troppo vispo. Ti vorranno? Ti vorranno Monellino? Vatti vedere, va a dare i bacini a tutti i cani, quindi vuol dire che è affettuoso con i suoi simili, maschi e femmine, non litiga. Povero Marshmello, invece deve stare solo solo nel suo box, un box singolo, perché questi sono troppo piccoli questi box e lui deve stare solo solo. Povero. Povero. Povero cucciolo. Allora, cosa fai? Hai ripreso il bastoncino? Se ti adatteranno ti faranno sempre divertire, non rimarrai più solo. Speriamo bene Marshmello, speriamo amore. Buona fortuna piccolino. Ciao amore. Ciao. 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 Ciao.